casiniva tutta forza va verso la città e quante bolle fa liamo visite aviell che cosa posso fare per te come sono notti in fretta scatto guarda cosa abbiamo trovato si siamo entrati in un relitto era paurosissimo roba dagli umani fatemi dare un'occhiata ragazzi vediamo un po la 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 caspita wow questo è uno dei miei oggetti preferiti questo è una riccia spiccia gli umani usano questi oggettini per sistemarsi i capelli guardate prima si fa un bel paio di giri e poi un bel tiro forte ecco qua un aspetto alla moda credimi aria questo oggetto è prezioso ed è simpatico una riccia spiccia e questo che cos'è per mille balene erano anni che non vedevo una cosa simile questo è un raro soffia bla bla buffo come nome è stato creato nel periodo in cui gli umani se restavano seduti a fissarsi negli occhi tutto il giorno a chiacchierare una noia mortale comunque hanno usato questa cosa per fare della bella musica una dimostrazione musica il concerto povera me mio padre mi ucciderà il concerto era oggi che strano forse si è rotto è stato piaciolo tesoro ciao ciao ciao